Ciao a tutti, voglio parlare in questo video dell'origine delle emozioni, perché le emozioni hanno un'origine. Le emozioni nascono in primo luogo come risposta a cambiamenti, a cambiamenti dell'ambiente esterno o interno, o interno dentro di noi, che richiedono un adattamento, sono fortemente adattative, diciamo così, da parte dell'organismo, a sua salvaguardia, quindi hanno una funzione in primis evolutiva. Un evento potenzialmente minaccioso, disturbante, che sia stata a suo tempo la tigre dei denti a sciabola, che attaccava l'uomo, o oggi invece il capo ufficio, diciamo così, che è mobizzante, oppure un uomo o una donna che ci rifiutano, oppure un uomo o una donna che ci abbandonano, poco importa, perché sono sempre modelli, situazioni disturbanti, situazioni negative. Quindi l'emozione è una risposta, in primis è una risposta a queste situazioni negative. E la prima, l'emozione base, diciamo così, l'emozione primaria è proprio la paura. La paura ha proprio questo scopo di mobilitare le nostre risorse interne per proteggerci da una minaccia, fondamentalmente. Fin qua sembrerebbe tutto molto semplice, diciamo. Però per noi esseri umani, a differenza degli animali, la situazione è complicata dal fatto che è sufficiente che la minaccia sia immaginata, non deve essere un'immagine, una minaccia reale, per far scattare quest'allarme. Quindi i nostri pensieri purtroppo generano, possono generare emozioni negative, qualora anche queste emozioni negative non avrebbero necessità di sussistere. E purtroppo noi, le paure, ad esempio, le minacce che abbiamo percepito da bambini, possono anche essere attuali da adulti. Infatti la nostra parte emotiva non distingue tra bene e male, non distingue neanche il tempo però, e quindi per la nostra parte emotiva, la nostra parte emotiva può essere più attuale, a qualcosa che è avvenuto, che ne so, 30 anni fa, rispetto a qualcosa che è avvenuto oggi. E quindi gli animali hanno una risposta completamente diversa. Una zebra prova paura quando subisce l'attacco di un leone, ma se riesce a fuggire all'attacco, due minuti dopo è tornata tranquillamente, normale, a bucarsi l'erbetta senza nessun problema. Quindi come facciamo, cosa facciamo noi per reagire alle paure? Di solito mettiamo in atto, diciamo, dei comportamenti autoprotettivi, che in buona parte sono innati, diciamo così, e in buona parte sono imparati. Quindi avvengono tutte delle trasformazioni, anche a livello biologico, quando abbiamo paura il cuore batte. Il problema è che se il cuore batte di più viene l'ansia perché dovrebbe mettere in moto un sistema cosiddetta la flight or fight response, la risposta di lotto di fuga. Il problema è che si scatenano questi meccanismi, come dicevo, anche quando immaginiamo di essere abbandonati, ad esempio. E questo è un po' il rovescio della medaglia. Nel rovescio della medaglia perché noi siamo poi condizionati dalle nostre convinzioni. E spesso queste convinzioni sono indotte, sono indotte da situazioni vissute a suo tempo. E non, diciamo, e non sono delle cose reali. Perché la paura, se c'è un evento reale, è anche utile. La paura spinge a comportamenti, diciamo, che da un certo punto di vista sono autoprotettivi, volti, diciamo, a mantenere la sopravvivenza. Però talvolta le paure sono paure che non hanno senso. Cioè, se una, come dire, una donna in Afghanistan, dove ci sono le mine, ha paura di uscire di casa e quindi presta attenzione a non finire sulle mine, è ovvio che è un comportamento adattativo, utile. Ma se una donna, cinisello balsamo, ha la stessa paura, dove mine non ce ne sono, è ovvio che vivrà in una situazione di negatività. E quindi diventerà una cosa disturbante. Oppure se hai paura di essere abbandonato e quindi metti in atto tutto, vivi nell'ansia, nella preoccupazione, nell'angoscia, perché poi questa paura di essere abbandonato non è che si esaurisce, non è l'attacco di un leone che dici, finito l'attacco, finita la paura. No, la paura può proseguire per sempre. Talvolta le persone hanno, convivono sempre con questa paura. Quindi questo è un utilizzo disfunzionale delle emozioni che noi dobbiamo imparare, diciamo, a superare. La paura poi spesso si genera nella rabbia, no? La rabbia è una reazione che spinge a lottare, a difendere noi stessi, il nostro territorio, i nostri beni, i nostri figli, il nostro lavoro, insomma la nostra immagine. La rabbia, diciamo, è un qualcosa di caldo, un qualcosa che avviene istantaneamente. La forza, la reazione che avviene nel presente proprio in queste situazioni. Il problema, di fondo, è che poi spesso invece talvolta la rabbia viene compressa, viene compressa, viene compressa dentro, non viene espressa. Espressa perché la rabbia è per necessità. Quando si manifesta ha necessità di una reazione fisica, perché è proprio un'emozione che ha la funzione della difesa. E quindi se invece uno si trattiene dalla reazione fisica, come normalmente avviene oggi, la rabbia viene compressa dentro. E poi, piano piano, sedimentandosi, diventa rancore. Il rancore, potremmo dire, è una rabbia ricordata. Mi ricordo della rabbia di quel torto che avevo subito quando avevo cinque anni e ancora viene fuori viene fuori e ci porta, diciamo, delle situazioni di estrema negatività. Però anche la rabbia, che è un'emozione, un veleno mentale vissuta, diciamo, nel presente mi dà una carica maggiore. Però il problema è che diventa un veleno mentale quando la comprimiamo, quando la teniamo dentro. Però analizzerò poi più in dettaglio, diciamo, questi parametri. Adesso è importante capire che l'origine delle emozioni è proprio un fine adattativo. Quindi non è una cosa cattiva l'emozione. Ci serve, ci serviva, perlomeno a sopravvivere. Quindi vanno gestite. Ecco, la cosa che voglio far passare, il messaggio che voglio far passare, che le emozioni sono energia. È energia. La rabbia, la paura è energia. Ma va gestita, va utilizzata nel modo migliore. Gestirla significa usarla. Appunto, e in questa serie di video cercherò di spiegare come fare a trasformare e a usare emozioni per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi e negli ambiti in cui vogliamo raggiungerli. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale. Iscriviti anche al mio nuovo canale. Felicità e benessere di cui ti lascio il link in descrizione. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ciao!